Emergenza alloggi popolari a Pescara, l'Udc avanza alcune proposte per dare una risposta alle richieste dei cittadini. Il capogruppo del partito di Cesa alla Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo di Città ha sottolineato che nel capoluogo adriatico le case popolari ci sono ma occorre velocizzare le pratiche per la loro assegnazione. Per il bando 2023 per l'assegnazione di un alloggio popolare, ha ricordato Pignoli, sono arrivate in comune oltre 400 domande. Gli alloggi ci sono, sono tanti alloggi che sono anche murati e che andrebbero ristrutturati però ovviamente l'Ater con una pigione, chi vive lì e non ha reddito o ha pochissimo reddito e si arrangia probabilmente a fare qualche lavoretto in Europa che era 10, 15, 20 euro al mese. Quindi non è che l'Ater può con quei soldi gestire un patrimonio immobiliare così elevato e anche noi come Comune. Dovrebbero arrivare i soldi dalla Regione, un impegno forte anche da parte del Presidente Marsiglio per dare non solo all'Ater di Pescara e al Comune di Pescara ma in tutta la Regione Abruzzo un aiuto perché gli appartamenti ci sono ma che sono murati e devono essere rimessi a norma perché ovviamente sono vetusti, non hanno più l'impianto elettrico, non hanno più l'impianto idraulico e quant'altro, le persone che ci vivono hanno distrutto tutto, quindi devono essere riaggiustate. Con un aiuto tutti quanti si può evitare questa emergenza sociale abitativa che ormai vive Pescara ormai da anni. Quotidaneamente in Comune, ha concluso Pignoli, vengono nel mio ufficio decine e decine di cittadini ormai allo stremo non avendo più risorse per andare avanti. Pagare le bollette o fare semplicemente la spesa è diventato un problema per molti di loro. In sintesi che cosa chiedere in particolare all'amministrazione comunale? Come dicevo prima, un plafon, un capitolo di bilancio per poter dare un contributo non ex post dicevo prima con l'aiuto della Regione per quanto riguarda i rimborsi affitti degli anni precedenti quindi retrattivo di un anno, ma dare la possibilità appunto alle famiglie di attingere a questo fondo per andare avanti perché qui la situazione è difficile. Poi noi ci troviamo persone e famiglie sotto il Comune che attendono, che sono state sbattute di casa la proprietà di casa e che attendono una sistemazione. E lì c'è la disegregazione della famiglia perché la mamma con i figli viene messa in una casa famiglia e il papà va al dormitorio. Questo i pescaresi non se lo meritano.